In un'estate dove la mucillaggine sta facendo da protagonista nel mondo della balneazione, sono in molti a cercare un luogo alternativo al mare dove passare i giorni più caldi dell'anno, soprattutto a ferragosto. Parte così l'assalto alle piscine da parte di tantissimi residenti, sia della costa che dell'entroterra. Ha stravolto il nostro lavoro in senso certamente positivo, però è stato veramente difficile finora. Credo che fino a fine stagione dovremo impegnarci molto perché ci dispiace dire di no a chi viene da una situazione di mare purtroppo difficile da affrontare. E quindi siamo presi d'assalto da molti pesaresi, fanesi, ci sono oggi gabiccesi fino a cattoliche. Facciamo del nostro meglio per soddisfare le richieste di questi ospiti. Noi siamo la balneazione dell'entroterra, siamo nati come balneazione dell'entroterra. Noi da tutta l'entroterra, da Fermignano, Urbino, Petriano, Valle Foglia naturalmente, che è una città splendida, no? Riusciamo nel periodo di giugno e luglio a soddisfare le richieste dei centri estivi perché i bambini vengono tutti qui, fin da 3 anni, vengono nelle nostre piscine. Poi qualcuno la domenica anche da Pesaro. Adesso invece siamo presi d'assalto. Alla ricerca di un luogo dove fare un bagno privo di mucillagini, le giornate di Ferragosto potrebbero portare ad un vero e proprio dualismo dove la scelta sarà tra fiumi o piscine. Io spero di piscine, i fiumi, io ho anche il barbetto del bagnino, sono molto pericolosi, non li consiglio minimamente perché sono portatori di batteri che in teoria nel mare non ci dovrebbero essere in quanto l'acqua salata disinfetta. E poi è molto pericoloso il fiume, è facile che ci siano delle difficoltà, meno che non ti metti sul greto del fiume e stai con le piedini, ma fare il bagno del fiume è molto pericoloso. Parlando di pulizia dell'acqua ci spostiamo in un luogo che non viene frequentato dagli amanti delle piscine ma che rappresenta il cuore centrale della pulizia delle acque ed anche uno dei motivi principali che ha portato a questo assalto estivo. La centrale di depurazione piscine dove noi, grazie al lavoro di Nicola che poi dirà come funziona, depuriamo in 4 ore e mezzo 500 metri cubi d'acqua rendendo la balneazione sempre sicura ed efficace. L'acqua prende dalla piscina gli skimmer e passa attraverso i filtri con l'aiuto dei motori e poi ovviamente dentro i filtri c'è il vetro che filtra tutto e poi ributta nella piscina l'acqua pulita.